Torniamo alla fittissima agenda odierna del Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni. Come abbiamo detto, gli appuntamenti odierni si sono aperti con la firma della cessione delle ex aree Falc destinate alla costruzione della Città della Salute. Ce ne parla Ilaria Settamanti. La Città della Salute sorgerà a Sesto San Giovanni su un'area di 205 mila metri quadri receduta gratuitamente in esclusiva proprietà dal Comune alla Regione Lombardia, come previsto dalla convenzione firmata questa mattina tra il Governatore Lombardo Roberto Maroni e il Sindaco di Sesto Monica Chittò. Entro febbraio 2015 poi la Regione dovrà siglare l'atto definitivo di cessione, ma solo se nel frattempo il Comune avrà effettuato le bonifiche con le relative certificazioni da parte degli enti competenti. Il nuovo polo sanitario, che riunirà l'Istituto dei Tumori e l'Istituto Neurologico Besta, avrà 660 posti letto e sarà strutturato in tre aree, ospedaliera, ricerca e servizi generali, più spazi riservati ad accogliere i pazienti e i loro parenti. L'investimento complessivo è di 450 milioni di euro, di cui 330 da parte della Regione Lombardia. Superate le polemiche, le bonifiche, quant'altro si parte? Sì, oggi con la firma abbiamo chiuso una fase, che era la fase propedeutica, con tutte le polemiche e i cambi di opinione, inizia la fase di realizzazione. Si partirà con la bonifiche a novembre e a gennaio già i progetti preliminari per la realizzazione di un'opera eccezionale, che è la Città della Salute e della Ricerca, con l'ambizione di fare di quest'opera e di sesto il Centro Europeo della Salute e della Ricerca. Ci sono tutte le condizioni, le alle collaborazioni tra le istituzioni, impegno degli istituti coinvolti e penso che davvero oggi si possa parlare di un momento di svolta. Tempi 2019, i soldi ci sono tutti? Sì, i soldi ci sono, io spero di anticipare anche rispetto al 2019, ma faremo in modo che il cronoprogramma sia rispettato, sia per quanto riguarda i tempi, sia per quanto riguarda le risorse. Abbiamo fatto tutte le verifiche necessarie, non c'è sempre ovviamente la possibilità di un imprevisto, ma vigileremo perché i tempi siano rispettati, a cominciare da subito, dalle bonifiche che partono a novembre e poi dai progetti preliminari che dovranno essere presentati alla Regione a gennaio dell'anno prossimo.